Ai microfoni di TV City il direttore generale dell'ASRA Napoli 3 Sud intervenuto questa mattina all'ospedale Maresca ha spiegato a cosa servirà l'osservazione breve intensiva facendo anche il punto sui lavori di ristrutturazione al vecchio padiglione sulle nuove progettualità da mettere in campo considerate anche le difficoltà legate alla carenza di personale. L'osservazione breve intensiva è collegata al pronto soccorso secondo normativa vigente dove c'è un pronto soccorso di pari passo deve esserci un'osservazione breve. Non erano previsti sei posti di subintensiva qual è la differenza? L'osservazione breve intensiva o subintensiva sta a significare la stessa cosa c'è un'attenzione particolare a un bisogno di salute del paziente che va nei codici rosso giallo per le attività sanitarie che permettono appunto un buon controllo clinico del paziente e una tranquillità degli operatori di procedere alle norme le attività di assistenza. Ci sarà personale dedicato o sarà il personale del pronto soccorso a gestire? Al momento c'è il personale del pronto soccorso ma ci sarà sicuramente un'implementazione del personale di pronto soccorso compatibilmente con le difficoltà di dotazione organiche che abbiamo in ogni realtà non solo nella Napoli 3 ma in regione campana io dico addirittura in Italia. Per quanto riguarda invece i lavori al vecchio padiglione a che punto siamo? Stiamo mettendo in sicurezza con le attività legate al problema sismico quindi attività di lavori per l'antisismica e conseguenzialmente un attimo dopo andremo a fare i lavori per la riabilitazione per la fisioterapia e altri reparti che hanno lo stesso dignità per le necessità di cura dei pazienti che vengono in questa struttura. Molti cittadini ancora rivendicano il polo materno infantile ma in questo senso non c'è possibilità? A livello nazionale c'è un calo importante delle nascite per cui parlare di polo materno infantile significa andare un attimo oltre quelle che sono le realtà e le difficoltà legate a queste peculiarità. Il polo materno infantile è un discorso da farsi ma è legato al numero di parti all'anno che in questo momento sono in netta discesa. L'osservazione breve intensiva serve dopo l'accesso di pronto soccorso per i pazienti che non possono essere dimessi, hanno necessità di essere appunto osservati per un periodo di tempo o poi magari ricoverati o piuttosto poi essere dimessi al loro domicilio. Quindi è molto importante perché consente di mantenere un adeguato livello assistenziale ai pazienti in pronto soccorso. L'obiettivo è favorire una migliore gestione dei pazienti in base alla loro complessità clinico assistenziale e consentire nel caso il contesto epidemiologico dovesse richiederlo la rapida attivazione di percorsi separati per la gestione dei soggetti infettivi. È stata pensata inizialmente per questo. Infatti questa struttura consente di essere completamente separata dall'area di pronto soccorso quindi in caso di un'emergenza epidemiologica indipendentemente dal covid consente proprio di separare i percorsi. e quindi di mantenere una zona adebita a patologie infettive e l'altra no. Può essere però ovviamente utilizzata nel suo insieme nell'area di pronto soccorso. In buona sostanza può rispondere alle esigenze di semi intensiva o può rispondere alle esigenze di osservazioni a breve intensiva o nella malauguratissima ipotesi può essere predisposta a poter funzionare come reparto di isolamento. L'obby potrà offrire un livello di assistenza all'utenza in particolare e ai pazienti più fragili. In questa maniera si riesce a completare il percorso assistenziale che dall'ingresso al pronto soccorso poi gradualmente porterà in alcuni casi alla dimissione o più probabilmente alla destinazione verso un reparto più indicato.